Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Ieri all'Erting Masters sono iniziati i quarti di finale e il match più atteso, naturalmente, è quello tra Karzen e Dubov, che si erano classificati rispettivamente primo ed ottavo nella fase a gironi. Karzen con il bianco ha subito vinto la prima delle quattro partite rapid, la seconda è finita in parità e stiamo per vedere insieme la terza decisiva partita con ancora Karzen con i pezzi bianchi. Partiamo! Magnus Karzen apre la partita con cavallo in f3 e Daniel Dubov risponde con cavallo in f6. Arriva c4, e6, cavallo in c3 e adesso c5. Karzen gioca e3 e qui di solito il nero gioca d5 oppure anche il salto del cavallo in c6, ma qui Dubov esce un po' dalle linee principali giocando a6, quindi una mossa che controlla la casa b5. Karzen spinge al centro con d4 e Dubov fa la stessa spinta, d5. Fermiamoci un secondo perché anche se la partita è iniziata con cavallo in f3, adesso in che apertura siamo? Quindi dopo cavallo in f3 che poteva sembrare come inizio una reti, l'apertura si era poi trasformata in una partita inglese, per poi entrare in questo momento nelle linee della semi-tarrasch. Quindi Karzen cambia al centro, c per d5, il pedone ricattura. Adesso un'idea molto interessante di Karzen, una linea che ha un ottimo score per il bianco, invece di sviluppare l'alfiere in e2, Karzen apre il fianchetto, vuole sviluppare l'alfiere campo chiaro in fianchetto per mettere ancora più pressione sul pedone d5. Quindi dopo g3 Dubov gioca il cavallo in c6, alfiere in g2 e come è solito fare nella fase di apertura Dubov trova una continuazione poco giocata ma molto interessante. Invece di alfiere in e7 per poi andare a giocare dopo il bianco a rocco corto, Dubov continua con c4. C4, mossa molto interessante, che minaccia anche, in caso di b5, una forte espansione del nero sul lato di donna. Karzen arrocca corto e Dubov continua con alfiere in b4, che è una novità e la partita diventa originale. Cavallo in e5 è buona mossa giocata da Karzen, ora naturalmente il nero non può cambiare i cavalli, se no il bianco ricatturando col pedone di in e5 apre il terzo attacco sul pedone che diventerebbe veramente un bersaglio in d5 e quindi Dubov è semplicemente a rocco a corto. Alfiere in d2, torre in e8, adesso veramente è il nero che minaccia di cambiare in e5 perché dopo si ricattura di torre, si vince un pedone e si protegge anche il centro e quindi Karzen cambierà in c6. Cavallo per c6, il pedone b ricattura e seppure il bianco stia più che bene, il nero comunque è riuscito con questa struttura pedonale a limitare un po' l'alfiere chiaro in fianchetto. Arriva b3, che è una mossa ottima che attacca il pedone più avanzato, Dubov risponde con una bella idea. Alfiere per cavallo, l'alfiere di Karzen ricatturando rimane non protetto e qui arriva il salto del cavallo, cavallo in e4. Adesso non piace al bianco e non piacerà neanche il futuro il cambio alfiere sul cavallo perché come tante volte abbiamo visto in passato si creerebbe quella brutta debolezza sulle case chiare proprio intorno al re con l'avversario che conserva ancora l'alfiere campo chiaro. Quindi brutta situazione, bisogna sempre stare attenti a fare questo cambio. Quindi il cavallo di Dubov sta attaccando questo alfiere di Karzen non protetto, ma non solo perché l'alfiere non può spostarsi in avanti se no regala un tempo al nero che giocherà a 5 e lo costringerà a ritornare indietro. Non può neanche ritornare indietro perché dopo alfiere in e1, a parte il fatto che vedete questo alfiere si inserisce tra i pezzi pesanti del bianco proprio una brutta posizione, comunque a5 arriva lo stesso e poi si minaccia alfiere in a6 come succederà poi in partita che va a minacciare però in questo caso una torre che non si può muovere. Quindi proprio brutta situazione, ma naturalmente Karzen non sposta l'alfiere dopo il salto del cavallo in e4 Karzen protegge l'alfiere con torre in c1, arriva a 5 perché l'idea è sempre quella che abbiamo visto prima quindi di giocare alfiere in a6, adesso il pedone b cattura in c4 e invece di ricatturare sciopando la struttura pedonale giustamente Dubov gioca alfiere in a6 che quindi ricatturerà di alfiere perché il pedone è inchiodato sulla torre. Di nuovo si ripropone il discorso che abbiamo fatto prima, Karzen non vuole cambiare questo alfiere sul cavallo non vuole dare queste case chiare intorno al re, all'alfiere o proprio non soltanto all'alfiere è come bersaglio di attacco del nero e quindi gioca f3. Cavallo sotto attacco, il cavallo si cambia sull'alfiere quindi Dubov toglie anche la coppia degli alfieri a Karzen, la torre ricattura e adesso Dubov ricattura con l'alfiere vedete quanto è diventato forte questo alfiere campo chiaro, attacca il pedone ma soprattutto sta attaccando la torre quindi la torre giustamente si sposta in f2, anche il pedone è protetto ma l'alfiere rimane forte con donna in g5 Dubov completa lo sviluppo portando la donna sulla colonna g dove c'è il re bianco e più che altro attaccando per la seconda volta il pedone in e3 e quindi Karzen muove la donna in c1 arriva h5, mossa ottima che fa due cose buone perché crea una via di fuga al re nero e poi naturalmente qui Dubov sta minacciando l'ulteriore spinta h4 quindi al punto di contatto con il castello di Karzen e qui Karzen risponde con alfieri in f1 perché vuole assolutamente togliere di mezzo o scambiare questo fortissimo alfiere di Dubov quindi alfiere per alfiere in f1, il re ricattura e Dubov migliora la torre controllando la colonna aperta b e ora in questa posizione Karzen deve capire cosa fare e capiremo come mai giocherà torre cattura in c6 perché in questa posizione vedete è possibile sì catturare in c6 ma questa torre sta anche proteggendo il pedone centrale che è due volte sotto attacco quindi Karzen deve decidere catturare in c6 oppure proteggere prima con torre in e2 il pedone e3 e tentare dopo di catturare ma dopo torre in e2 arriva h4 e quindi praticamente si lascia un po' di iniziativa al nero quindi Karzen sono buone entrambe le idee poi naturalmente vanno continuate bene Karzen è un giocatore sempre attivo che ci piace moltissimo anche per questo lui cattura il pedone in c6 Dubov addirittura prima di ricatturare con la torre in e3 gioca subito h4 ora qui naturalmente non si può catturare il pedone perché sarebbe un disastro si apre completamente l'arrocco e quindi Karzen ritorna con il re in g2 a proteggere per la seconda volta la casa g3 soltanto adesso Dubov riprende il pedone quindi torre cattura in e3 e adesso torre in c8 con scacco Karzen vuole cambiare le torre torre per torre la donna ricattura con scacco ma vedete che Dubov aveva preventivamente aperto questa via di fuga al rene e quindi il re semplicemente si sposta in h7 donna d7 quindi Karzen ricentralizza la donna attaccando pure il pedone f7 e Dubov lo avanza in f6 fermiamoci un attimo ad analizzare la posizione perché per il computer questa è una posizione di sostanziale equilibrio dove c'è una certa iniziativa per il nero io in questa posizione vedo tre sostanziali differenze che mi fanno fortemente preferire il nero intanto un re nero molto più al sicuro del re bianco poi i pezzi pesanti del nero che sono connessi collaborano tra di loro mentre la donna e la torre di Karzen sono lontani e disconnessi una torre nera attiva una torre del bianco praticamente che ha il compito di difendere prevalentemente la seconda traversa che si è indebolita dopo la spinta di pedone f3 quindi una torre più attiva una torre un po' più passiva quindi per questo motivo secondo me strategicamente il nero è messo è molto più semplice da giocare dopo f6 arriva donna in b5 come dicevamo prima Karzen giocatore sempre attivo quindi da questo punto di vista veramente un giocatore fenomenale cerca sempre la vittoria ed in questo caso cosa vuole fare? vuole catturare in a5 e crearsi un pedone passato lontano a questa mossa Dubov risponde con donna in f5 donna in f5 minaccia h3 con scacco questa è una minaccia fortissima che non permetterà a Karzen di catturare in a5 vediamo infatti che cosa succede se adesso il bianco cattura il pedone dopo donna cattura in a5 pensate c'è il matto perché arriva h3 con scacco il re si deve spostare in una di queste tre case spostiamolo in g1 arriva donna in b1 con scacco la torre si sposta in f1 donna in c2 o donna in b2 è la stessa cosa perché si minaccia il matto in g2 torre in f2 e purtroppo per il nero non si può giocare torre in e1 per vincere la partita perché la donna di Karzen controlla e2 scusate controlla e1 ma torre in e2 e già chiude la partita e questo è un doppio attacco e non si può parare e quindi torre cattura la donna ricattura e non c'è niente che possa impedire il matto in g2 quindi ritorniamo a noi perché dopo donna in f5 e giustamente Karzen non perde il tempo preziosissimo a catturare in a5 ma gioca g4 g4 attacca la donna chiude questa connessione tra donna e l'avanzata h3 e siamo arrivati al nostro primo quizzone perché ci sono tante buone continuazioni per il nero ma soltanto una di queste secondo me può dar fastidio al bianco quindi mettete pure in pausa se volete e trovate una buona continuazione per il nero a voi la parola ritorniamo alla nostra partita perché come dicevo ci sono tante buone continuazioni anche donna g5 e però ce n'è una secondo me particolarmente interessante guarda caso è proprio quella giocata da Dubov h3 con scacco mossa con tempo ora particolarmente interessante appunto perché mossa con tempo il re non può catturare il pedone perché se il re cattura in h3 è la fine vediamo che cosa succede dopo re cattura in h3 e qui vedete che si perde con scacco il pedone torre cattura in f3 con scacco e costringe anche il bianco a catturare torre cattura la donna cattura con scacco qui c'è già il semplicissimo matto forzato perché il re viene spinto in avanti con g5 viene ancora attirato ancora più avanti donna in h3 è già scacco matto ritorniamo però ad h3 con scacco perché il bello è che il re in questa posizione non può neanche ritornare indietro perché dopo re in g1 c'è di nuovo un terribile scacco dalla prima traversa torre in f1 torre in f1 la donna guardate che bella questa mossa la donna cattura in f3 e qui c'è già il matto forzato perché la torre non può catturare la donna perché è inchiodata sul re se la torre cattura la torre donna g2 matto in 1 quindi anche qui il matto è in 3 o 4 matto forzato bianco deve perdere la donna insomma questa posizione si fa prima ad abbandonare si fa più bella figura ritorniamo a noi quindi bella mossa il dubo vh3 con scacco e il re viene spinto in avanti quindi re in g3 è mossa unica praticamente per Karzen e arriva un'altra bellissima idea di Dubov donna in e4 che quindi gioca sull'inchiodatura del pedone vedete il pedone non può catturare la donna perché è inchiodato al re mossa a 30 questo è il momento critico della partita perché la donna di Dubov sembra voler catturare il pedone di 4 del bianco e in virtù di questa minaccia Karzen a sua volta cattura un pedone del nero donna cattura in a5 ma non era la cattura del pedone la vera minaccia di Dubov siamo al secondo ed ultimo quizzone qual è secondo voi la mossa che vince la partita per il nero mettete pure in pausa ed a voi dalla parola ritorniamo a noi Karzen invece di catturare il pedone doveva giocare sulla difensiva giocare donna in f1 perché questa donna in e4 non solo minacciò il pedone ma non era questa la vera minaccia spostando la donna in e4 praticamente Dubov ha liberato la colonna f per la fortissima spinta f5 spinta f5 che Dubov naturalmente giocherà alla mossa a 31 ora vedete che il pedone rimane sempre inchiodato quindi donna cattura in g4 è già scacco matto in 1 e quindi qui praticamente il pedone va catturato Karzen cattura il pedone in f5 quindi elimina la possibilità del matto è continuazione migliore per il bianco ma il re di Karzen ormai è scoperto la donna ricattura e protegge il pedone in h3 con donna in b5 Karzen cerca di rientrare con la sua donna ma qui arriva torre in e6 vedete che si minaccia praticamente lo scacco di torre fortissimo che porterà al matto quindi Karzen sposta la torre protetta dalla sua donna vuole creare una via di fuga per il suo re ma è qui naturalmente il nero che sta attaccando non deve cambiare i pezzi e deve iniziare con gli scacchi torre in g6 con scacco il re di Karzen si sposta in f2 arriva donna in f4 ci sono tre scacchi sulla scacchiera due catture ci sono troppe minacce e non basta una mossa per parare le tutte Karzen si difende come può e quindi donna in b1 inchioda la torre sul re inchioda la torre ma praticamente Dubov la schioda subito con re in h6 donna in d3 protegge d4 ma h2 è perso quindi donna cattura in h2 con scacco il re si sposta in e3 torre in e6 con scacco mossa 38 in questa posizione Karzen abbandona la partita abbandona giustamente perché una volta che il re si è mosso andiamo a vedere che cosa succede dopo re in d2 in questa posizione il nero cambia tutto perché il nero non soltanto aveva l'attacco ma ha anche un'altra bellissima forza in questa posizione è questo pedone passato lontano eppure avanzato quindi in questa posizione il nero semplifica tutto quindi torre cattura in e2 con scacco la donna ricattura donna per donna con scacco il re ricattura mossa al nero che avanza e vedete promuove a donna e vince la partita quindi bellissima partita di Dubov ma anche di Karzen secondo me con questa vittoria Dubov riuscirà a pareggiare il primo mini match e quindi oggi sarà la giornata decisiva da una parte è veramente un peccato vedere andare via dal torneo uno di questi due campioni e però almeno ci stiamo godendo queste bellissime partite spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto vi ringrazio tantissimo per l'ascolto mi raccomando non scordate i like e non scordate soprattutto di iscrivervi al canale e naturalmente ci vedremo domani con un nuovo video a presto